Non lo so. Enrico, perché disegni macchine e moto? Non lo so. Sin da quando avevo 13 anni portavo sempre con me una matita per disegnare soprattutto le macchine e le moto potenti. Probabilmente aggiungi il talento del disegnare che hai conquistato in una tua vita precedente al talento conquistato nella tua penultima vita in cui ti piaceva guidare macchine molto veloci. Non lo so. So soltanto che ogni volta che disegno vivo doppiamente.